Diamo il nostro saluto a Carlotta Ghetti di Ferrara. Benvenuta Carlotta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che cosa ci racconti del tuo lavoro? Allora, il mio lavoro è un lavoro molto creativo e da raccontare c'è il mondo. Ed è per questo che oggi appunto sono qua. E nello specifico su questa modella invece vediamo il prima e vediamo questo risultato? Allora, nella mia modella ho voluto creare due stili. Praticamente nella concettura è uno stile rock e nell'abbigliamento è uno stile un po' barocco. Si può portare anche per un aperitivo perché comunque a me piace essere bastante gustosa. Anche alcolico però? Ma anche no. Ah vabbè. Però se alcolico meglio. Sai che c'è uno stile. Ci dà più animo. Io apprezzo molto comunque innanzitutto il pensiero di due stili. Perché la chiave di rottura adesso funziona molto. Degli stilisti ci viene chiesto proprio questo pensiero e perciò raccontacelo. E ha proprio un nome, si chiama Ba-Rock. Quindi hai azzeccato una tendenza. Esatto, ed è quello infatti che avevo pensato quando ho visto il viso di questa ragazza qua. Niente, secondo me sta bene anche con tanti altri stili, con il viso che ha e tutto, con i lineamenti che ha. Però ho voluto creare, quando l'ho vista, la concettura non era questa. Qual era? Era un'altra. Tirata solo da una parte e una leggera coda, cioè da un lato. Utilizzando sempre il suo mosso naturale? Utilizzando sempre i capelli mosse? Sì, cotonato però. Però non si poteva usare extension, non si poteva fare niente, postizzi. E quindi ho detto no, elimino. E oggi ho detto ti cambio l'acconciatura e cambiamo stile. E ho creato appunto questa cosa. La ce la metti, guarda. Bellino. Divertente anche. La borsa che la trovo un pochino dissonante con il resto, giusto? Sì. Non lo so, a me mi sciocca un pochino questa borsa. La trovo inutile, non efficace, che non serve a niente. Io quasi quasi la preferirei con la mano in tasca piuttosto che con la borsa. Sì, assolutamente più aggressive. Per la storia che tu ci hai raccontato per questa testa. Sì, è una bella borsa, ma non è una borsa di rottura, certamente. Sto parlando di questo. Allora, invece la scelta dei colori per il make-up. Allora, beh, perché comunque sono rispecchiando anche le quattro stagioni. Comunque può riprendere anche la stagione dell'autunno, ma nello stesso tempo anche della primavera. Quindi ho voluto fare un'inserzione. Colori caldi. Tu hai visto sì. Sì, io. Io mi sono fatta questa idea. Sì, sì. Ma bene, aiutami a capire, aiutaci a capirlo. E quindi ho giocato appunto con dei marroni, con dell'oro, con un bronzo e poi l'ho anche sfumato con dei colori comunque caldi. L'hai realizzato tu quindi il make-up? Sì, sì, l'ho fatto io. E se tu dovessi scegliere del colore per questi capelli? Allora, qui, esatto, anche qua. Volevo infatti arrivarsi. Io qua, se deve uscire così, se dovesse dirmi lei, io sono abituata sempre a uscire con la cresta, con un qualcosa di particolare. farei delle ciocche, dipende sempre da com'è vestita. Comunque, com'è vestita in questo momento qua, anche delle inserzioni ramate, cambiandogli la giacca. Altrimenti dipende sempre da com'è pettinata, da com'è abituata giornalmente a essere. Perché se hai tutti i giorni con una cresta, ok, un qualcosa di abbastanza forte. Altrimenti un qualcosa di ormonico anche. Sì, comunque delle ciocche ramate, dentro questa capigliatura che nasce in mossa, esalterebbero anche il mosso, no? Quindi, con uno senza cresta, penso che tu abbia individuato una famiglia di nuance appropriata, a prescindere dall'abito. Perché se lei è un autunno, con queste ciocche nella famiglia dei ramati, starà sempre bene. Sì, esatto. Grazie, è stato bello. Mi piaceva molto il ramato e non capivo perché le volevi cambiare il vestito dietro alle ciocche. Se lei è un autunno, la ciocca ramata veste tutti i colori della sua tipologia, quindi della sua palette cromatica. Sì, con un tipo di cresta farei delle ciocche ramate, però non a livello... cioè glielo farei aggressivo, farei delle slash, quindi un ramato più forte, non troppo arancio, però comunque un qualcosa di spinto. Per la versatilità? Esatto, con qualcosa di più armonico, quindi rimanere su dei cognac, su dei colori comunque ramati brandy, dei ramati comunque più soft. Quindi stai dicendo che sceglieresti la forma di tutti i giorni, che potrebbe anche essere poi trasformata da sera o da cocktail, e poi sceglieresti in consulenza il colore in funzione della forma. Esatto. Tutto chiaro. Guarderei come è abituata lei a uscire... Certo. Sempre. Va bene, abbiamo capito. Non avevo capito che ti riferivi alle ciocche fluo per il rock, diciamo, le ciocche più forti. Va bene. Ma hai risposto benissimo. Grazie. Grazie.